Noi partiamo da un presupposto, vogliamo superare e smembrare il modello economico che ci viene proposto dall'Europa. Non si può pensare di creare sviluppo al Paese, investimenti nel Paese andando a distruggere lo Stato sociale. Non si può pensare che l'unica via per abbassare le tasse sia tagliare le pensioni. Io non voglio morire in un mondo in cui il 3% è più importante della pensione dei nostri cittadini. Il vincolo del 3% da Stato sovrano, devo sentirmi libero di sforarlo perché voglio investire e credo nello sviluppo del Paese. Quindi lei vuole aumentare la spesa pubblica? No, se dopo ci sono da tagliare degli sprechi, io non credo che l'abbassamento delle tasse sia aumentare spesa pubblica. Penso che sia un investimento del Paese che aumenterà le entrate per lo Stato nel medio periodo. Perché se non investo su quello, se non credo che qui avrò più investimenti, più gente lavorerà, più gente pagherà le tasse, vuol dire che non credo nel futuro della nostra gente. Seconda cosa, io tengo a sottolineare che in questo sistema abbiamo visto delle ricette che ci hanno proposto dove è stata aumentata l'età pensionabile, dove sono state colpite le fasce anche più deboli della nostra popolazione, che risultati ha portato? Questo con i governi Monti, Letta e Renzi ha portato al massimo storico di debito pubblico, ha portato al massimo storico di disoccupazione, ci ha portato per la prima volta in deflazione dopo 50 anni. Non vedo dei successi, o noi abbiamo il coraggio, anche insieme, noi non vogliamo che questa proposta sia la proposta a firma Federica, confrontiamoci con chiunque, però o abbiamo il coraggio di alzarsi e con la spina dorsale dritta cercare di imporre un modello economico che sia di interesse per le nostre imprese, quindi per i nostri lavoratori, oppure qui ho paura che andremo al prossimo Consiglio Europeo andando a supplicare qualche spicciolo da portare in Italia cercando di rivenderlo come il forziere, che in realtà il forziere non è.